Dovete tenere conto che l'Italia in questo momento è il paese che ha adottato misure cautelative all'avanguardia rispetto agli altri ancora più incessive. Da questo punto di vista abbiamo adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili a maggioranza. Dovete tenere conto che l'Italia in questo momento è il paese che ha adottato misure cautelative e sospensione alle attività lavorative all'avanguardia rispetto agli altri ancora più incessive. Da questo punto di vista abbiamo adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili a maggioranza. Dovete tenere conto che l'Italia in questo momento è il paese che ha adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili a maggioranza. Dovete tenere conto che l'Italia in questo momento è il paese che ha adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili a maggioranza. Dovete tenere conto che l'Italia in questo momento è il paese che ha adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili a maggioranza. Grazie a tutti